Presidente Jacop, la sessione plenaria del Comitato delle Regioni oggi e domani si svolge al Parlamento Europeo. Può dirci qual è la particolarità di questo evento e qual è il contributo che lei porta? La plenaria rappresenta il momento di sintesi del lavoro del Comitato delle Regioni. Infatti nell'Assemblea che vede rappresentati tutti i 28 Paesi dell'Unione Europea che si adottano i pareri e quindi si svolge quel lavoro di contributo, di verifica, lettura ed integrazione delle proposte che provengono dalla Commissione Europea e di quelle che sono le espressioni delle volontà dei governi locali e regionali dell'Unione Europea appunto in questa sede si produce il dibattito e l'approvazione definitiva. Oggi proprio io presento in tal contesto un parere, cioè un rapporto su quelle che sono le prospettive legate alla comunicazione della Commissione relativamente all'attuazione dell'Agenda 2030 cioè l'Agenda sullo sviluppo sostenibile approvata dalle Nazioni Unite e che diventa e diventerà per l'Unione Europea e per gli Stati membri un modello nuovo a cui orientare lo sviluppo, la crescita e la condizione delle proprie comunità. 17 obiettivi che vogliono rappresentare un nuovo modo di comprendere l'equilibrio e la dimensione della vivibilità del nostro pianeta sia in termini sociali che in termini economici che in termini di territorio. È un lavoro che ho svolto in questi sei mesi dal momento in cui mi è stato affidato questo compito con consultazioni, con approvazioni da parte della Commissione competente e che oggi assieme ad altri importanti pareri approda appunto a questa sessione plenaria e mi auguro possa essere un contributo nella formazione di quelle politiche comunitarie che, e questo è l'auspicio che appunto porto all'interno del mio parere, che deve vedere fortemente riconosciuto il carattere di protagonista che proprio l'autonomia locale, la dimensione locale, il governo del territorio ha nel poter far sì che dalle enunciazioni e dalle idee si passi effettivamente alla realizzazione e alla concretizzazione di obiettivi importanti quali sono appunto quelli della sostenibilità complessiva.